La chef stellata Patrizia Di Benedetto è stata arrestata per furto di luce. I carabinieri della stazione di Partan e della compagnia San Lorenzo hanno pizzicato la 60enne titolare del Bye Bye Blues, ristorante di Mondello a Palermo con una stella Michelin, prima donna in Sicilia ad ottenere questo riconoscimento. Per la chef gli arresti domiciliari e la condanna ad un anno con sospensione della pena. A riportare la notizia il giornale di Sicilia che racconta come la notte a cuoca sia stata colta in flagrante dai carabinieri con un magnete piazzato sul contatore Enel e scamotage per ridurre il conteggio dei consumi di energia elettrica in grado di ridurli fino al 50% e oltre. Patrizia Di Benedetto per una notte è rimasta agli arresti domiciliari, poi ha scelto di essere processata con il patteggiamento avvalendosi della facoltà di non rispondere. La chef stellata è stata quindi condannata ad un anno, pena sospesa. Per lei anche 200 euro di multa, ma ora proseguiranno gli accertamenti per stabilire la reale entità del furto di energia perpetrato con il suo ristorante che resta comunque aperto. Grazie per la visione!